Da lunedì si chiudono tutte le scuole. Perché dobbiamo far fronte alle varianti nuove che sono emerse e perché dobbiamo utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico. Quindi per due motivi precisi, chiari, che non hanno nulla di ideologico. Sulla vicenda della nomina dei sottosegretari, al di là delle persone e in qualche caso anche al di qua delle persone nominate, credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana ma anche per non andare oltre il codice penale. Chiudiamola qui e cerchiamo di pensare ai problemi del nostro paese. Abbiamo accettato un'unica sperequazione come regione Campania, quella rispetto alla popolazione anziana, ai vaccini da destinare agli anziani, perché abbiamo altre regioni con una popolazione anziana più ampia rispetto a quella della Campania. Ma ovviamente con l'impegno che poi si recuperano le dosi in meno a cominciare da fine marzo. Vedremo se questo governo ripristinerà da fine marzo l'unico criterio decente in un paese serio. Un vaccino per ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia.